Non c'è nient'altro da fare. Alteriamo l'ordine delle sequenze di memoria, per questo vai in errore. Cosa suggerisci? Se proseguiamo con la vita di Shay nelle colonie, avremo dei risultati migliori nei ricordi di Parigi. Ottimo. Tienimi aggiornato. Carico la prossima sequenza. Shay Cormack, sei il nuovo esperto templare di City dei Precursori? Non proprio, signore. Ho solo visto cosa fanno gli assassini in quei maledetti posti. Passato anni a seguire le tracce dei Precursori. Dimmi cosa hai visto. Bene, so che sia assassini che templari cercano i frutti dell'Eden. Armi potenti, mele che controllano la mente, ma stavolta è diverso. Non si tratta di una mela, ma di un albero. Sono templi che reggono la terra, come radici. Li disturbi e Haiti crolla, o... Lisbona, o qualsiasi posto indicato dal manoscritto. E gli assassini hanno osato interferire con questi luoghi? Già. E se non li fermiamo, continueranno a distruggere città. Capisco. Gli assassini sono attivi vicino alla fortezza di Louisbourg. Incontreremo un ufficiale inglese, James Cook. Ha appena avuto un incarico molto utile dal punto di vista strategico. Ghi sta le mappe. Molto bene. Allora partirò subito. Monroe parlava bene di te, Shay. Era convinto che avessi potenzialità enormi. Spero che non mi deluderei. Non lo farò, signore. Ghis, tu sai perché il Gran Maestro è così interessato al Capitano Cook? Beh, è molto intelligente e ambizioso. La sua abilità nella navigazione non conosce rivali. E se la mia cameriera di Halifax preferita dice il vero è appena diventato Capitano di Fregata. La sua abilità nella navigazione non conosce rivali. E se la mia cameriera di Halifax preferita dice il vero è appena diventato Capitano di Fregata. È anche un esperto nel decifrare codici segreti. Un uomo così abile sarà senz'altro utile alla nostra casa. Il tipo di persona da accogliere nell'ordine? Beh, è un mio amico. Ma ha il brutto vizio di essere onestissimo. E non è molto famoso per la sua furtizia. Non riesce a mantenere le questioni segrete. Segrete, soprattutto quando ha il cervello impegnato a decifrare i codici. Eccola lì! L'HMS Pembroke. La nave del Capitano James Cook. Che bellezza. Un vascello. Ben armato. Dovremmo portare qui la Morrican. Il signor Kenway sta aspettando. L'HMS Pembroke. Via dal vento! Chiudete tutte le vele! Aprite... Benvenuti a bordo, signori. Lieto di rivedervi, Capitano. Capitano Shea Cormack, Capitano James Cook. Sono lieto di conoscervi. C'era il mio, signore. Il Capitano Cook ha scoperto uno spiacevole piano che temo confermi le nostre convinzioni. Infatti, proprio mentre parliamo, una flotta inglese è diretta a Louisbourg. I francesi hanno pianificato un attacco preventivo, però. Se lanciassero questo attacco... Ovviamente non permetteremo che accada. Signori, la battaglia di Louisbourg potrebbe essere il punto di svolta che metterà fine a questo conflitto. Io non so voi, ma ne ho abbastanza della guerra. Capitano Cormack, potrei suggerirvi di prendere il comando? Sono convinto che vi piacerà comandare una nave zeppa di... veri cannoni. Beh, suppongo di sì, Capitano. per la serv… sono pres oferre i arrivare dove�rò per aiutare il installo for perfetto. Si, ti s' spricht? V 안로. E sia un'ora? Sì. La musica delle tarti è qualcosa di buono. ricchet. Wolf, Lawrence e Whitmore guidano le tre divisioni della marina inglese Chi è il comandante? Il maggior generale Amherst, ritornato da Anume Quindi ti interessa la guerra, Shay? Non ho intenzione di deludervi Spaziale di Campania colpiti non dobbiamo lasciarli passare e una cannoniera l'esito della guerra pronti capitale fuoco fuoco finirà per fricolarsi fuoco fuoco Santo Dio, brulotti, se riuscissero a passare, devasterebbero la nostra flotta. E allora sarà meglio in piedi. Riconosco quel vascello, signore. È l'experto trete. Ateguate. Troppo fortunato. Abbiamo altre priorità adesso. Concordo. Dobbiamo sbarazzarci di quei brulotti. Altri brulotti! Cuoco! È affondata! È affondata! Io ho affondato la talle! Cuoco! Siamo sulla loro strada. Dobbiamo affondare quel pallotto o toglierci di mezzo. Cuoco! 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 Stanno affondando! Stanno affondando! Che ne dite della? Cuoco! Ci sono altre navi nemiche! E altri brulotti! Non ce la faremo mai. Forse sarebbe più sabbia di tirarci. Guerra e saggezza non vanno sempre d'accordo. Non è ancora finita, gente! Tutti ai ragioni! Siamo sulla loro strada! Siamo sulla loro strada! Dobbiamo affondare quel pallotto o toglierci di mezzo! Castello! Siamo fino a qui! Siamo finiti! Cuoco! Siamo ordini! Siamo sulla loro strada! Dobbiamo affondare quel pallotto o toglierci di mezzo! Cuoco! Siamo verso lì! Siamo sulla loro strada! Dobbiamo affondare quel pallotto o toglierci di mezzo! Cuoco! Rapportato! Ecco la marina inglese! Abbiamo fatto giusto in tempo, Capitano Cormac! Le sorti della guerra cambiano! È stato un gran bel botto, vero? È troppo presto per festeggiare. A De Wale è ancora qui. Scommetto che lo rivedremo presto, signor Kenway.